Ciao ragazze, notate qualcosa di diverso? Qualcosa? Sì! Ho cambiato un'altra volta look ai capelli Allora, non vi preoccupate perché prima le cose che avevo fatto fino adesso non erano tinte, non erano niente erano le solite maschere o i colori che si sciacquano con lo shampoo e avevo provato a fare l'effetto che avete visto nel video precedente appunto lo volevo momentaneo perché non ero proprio sicura invece mi è piaciuto, ho ricevuto anche tanti commenti da parte vostra che mi dicevate che scura stavo meglio anche i miei ragazzi, i miei amici, tutti le stesse cose e allora l'ho voluto fare definitivamente che cosa ho fatto? Mi sono fatta la tinta che stanno scuro e poi ho voluto optare per queste punte fucsia che mi piacciono veramente tanto però per tutta la spiegazione e il procedimento ho scritto tutto nel blog anche foto documentato, quindi vi metto qui il link del mio blog non so se si può mettere qui il link vi metterò una foto se non si può mettere il link il link lo metto nell'info box comunque sono qui per farvi vedere sia questo nuovo look volevo ringraziare tutte le ragazze che mi seguono su Instagram, su Facebook appunto sul blog, ma su Instagram perché ieri sera, non so quando caricherò questo video però ecco, quando ho fatto appunto questo effetto aspettavano il risultato perché ero lì che pubblicavo la foto della vaschetta con la tinta dentro per mettere un po' di suspense e erano lì che aspettavano appunto il mio risultato e devo dire che sono tutte carinissime e veramente un bacione allora, faccio questo video per una mini review prodotto per i capelli naturalmente dato che questo video è partito con i capelli finirà con i capelli di questa maschera Fito Repair Remedy di Gnashi mi è stata regalata per Natale Ehi! Harry! Questi si mangiano E è appunto una maschera leggiamo dietro così non mi dimentico nulla condizionante, rigenerante, nutriente per capelli secchi e danneggiati trasferisce nuove molecole della gioventù di collagene elastina e cheratina allora è una gramma appunto rigenerante per capelli lo consiglio per chi come me magari ha fatto decolorazioni, tinte fa la piastra per chi perché? per chi appunto stressa i capelli devo dire che mi piace tanto questa crema però qui dice comunque di utilizzarla sui capelli lavati e tamponati massaggiare su lunghezza e punte e lasciare in posa da 2 o 3 minuti io provo a fare così però io ho i capelli molto ho la cute grassa e le punte secche quindi anche se lo applico sulle lunghezze poi lo vado a risciacquare io l'ho trovato comunque un prodotto molto molto grasso che sciacquato così con l'acqua non mi piace poi come rimane il capello perché rimane molto pesante quindi da questo punto di vista non mi piace naturalmente ho utilizzato in un altro modo ovvero mi sono fatta un impacco proprio sulle lunghezze come appunto c'è scritto quindi dalle orecchie alle punte mi sono fatto uno scignolo molto morbido qui e ci sono andata a dormire e devo dire ragazzi che il giorno dopo poi quando mi sono lavate i capelli avevo dei capelli morbidissimi lucenti le punte erano chiuse perché a volte ecco appunto delle doppie punte qui che danno quell'effetto di puntini bianchi vabbè sapete appunto le doppie punte che cosa fanno però l'ho trovata molto unite sembrava appunto che non ne avessi quindi questa qui veramente la consiglio il prezzo ve lo metto qui sotto sono 150 ml dura veramente tantissimo perché l'impacco ve lo consiglio una volta a settimana massimo ecco due volte al mese se volete io lo faccio una volta a settimana avendo appunto i capelli trattati come sapete faccio la piastra tutti i giorni quindi stra consigliata però con il metodo che vi ho detto io non con le istruzioni magari provate se voi avete ecco dei capelli molto molto secchi e non avete ecco il problema anche della cute grassa magari a voi vi va bene anche questo modo di utilizzo e nulla ragazzi spero che questo video vi sia stato utile era proprio una mini mini review e un bacione al prossimo video ciao